Il vostro gruppo ha deciso, come tutti i sabati, di dedicarsi ai pazienti dell'ospedale. Sì, noi lo facciamo con amore e puntualità, perché noi ogni sabato siamo qua, il nostro gruppo si chiama Regalerò un sogno. Quindi noi veniamo per regalare prima sogni e poi sorrisi. L'uomo ragno che cosa fa qua? L'uomo ragno? Allora, l'uomo ragno è conosciuto soprattutto tra i bambini, quindi soprattutto nel reparto di pediatria. Però comunque anche dai grandi, perché il sorriso è sulla bocca di tutti, quindi andiamo ugualmente anche dai grandi. E l'obiettivo è quello di dare speranza, perché la gente ha bisogno di questo. E anche se falliamo non c'è modo migliore di vivere. Quindi noi cerchiamo di dare forza e augurare il sorriso in ogni circostanza, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso. È bello che i ragazzi siano qui con i pazienti per regalare un sorriso. Sì, oggi noi siamo venuti qui per regalare oltre che sorrisi anche molta cioccolata, dato che è la festa della Befana. Io in arte sono tiramisù, ma oggi rivesto il ruolo della Befana. E oggi siamo venuti qui per fare festa tutti insieme. Per fare festa dobbiamo dire che, insomma, i clown non mancano. E certo, io sono in alte clown banana e diamo quindi sorrisi ogni sabato, sia ai bambini che agli anziani. E come è colto questo vostro momento di volontariato? Molto bene, si divertono tutti, soprattutto gli anziani. Mettiamo un po' di musica quando può far bene, quindi niente. Robby, tu non ti aspettavi che io ti raggiungessi qui, ma credo che sia importante anche far capire che i nostri giovani sono attenti alle persone che sono ricoverate, vivono momenti di sofferenza e quindi regalare un sorriso e regalare un sogno. Sì, esatto, non me l'aspettavo, però sono contento di questo perché comunque è bello quello che noi, il nostro piccolo, riusciamo a fare. Poi ovviamente è un invito che rivolgo anche a tanti altri giovani che si vogliono unire a noi, sono i benvenuti.